Benvenuto dottor Aldo Di Blasi, segretario di Enao Assomed del Lazio. Purtroppo c'è stato un incendio tra l'8 e il 9 di dicembre, ai danni dell'ospedale di Tivoli innanzitutto, ma purtroppo sono morte 4 persone, evacuate 200 persone portate grazie all'aiuto di tanti vigili del fuoco, all'aiuto di tante persone, degli operatori sanitari dell'ospedale San Giovanni di Tivoli, che ringraziamo. Queste 4 persone purtroppo sono venute a mancare, dottor Di Blasi. Una di queste persone non è mancata per, precisiamo, non per i fumi dovuti al rogo. È vero dottor Di Blasi? Buonasera a lei e ai suoi telespettatori. Sì, è tutto corretto. Dalle notizie che mi giungono, un paziente è deceduto per infarto, prima che l'incendio potesse determinare i suoi nefasti effetti. Le altre tre invece, da quello che mi dicono, ma poi sarà definitivamente comunicato, è che sono deceduti per delle esalazioni. Come mai questo incendio è arrivato così rapidamente? Più che le fiamme è arrivato il fumo in tutti questi reparti così rapidamente. C'era già un'idea? Qualcosa si è saputo? Allora, guardi, sulle dinamiche dell'incendio non posso ovviamente riferire, perché ci sono delle indagini dell'autorità giudiziaria in corso e della magistratura. Però è partito dal piano meno due? No, è partito dal piano meno tre, da quello che mi è dato sapere, da fuori dell'ospedale, da quello che mi è dato sapere. Però, ripeto, su questo poi le indagini faranno luce in maniera più dettagliata. Per quello che riguarda invece la propagazione, questa notte c'era un grandissimo vento, per cui è abbastanza scontato che quando c'è un incendio, le condizioni meteorologiche sfavorevoli, come in questo caso, favoriscono moltissimo la propagazione delle fiamme e soprattutto del fumo e della fuligine. Perché si è parlato molto di cumuli di rifiuti, buste di plastica, di questo passaggio stretto tra i due edifici, del fatto che al piano meno due, all'esterno, vengono depositati questi rifiuti speciali, ci sono questi cassonetti, quindi è un po', diciamo, l'attenzione dei media è concentrata su questo spazio che un po' andrebbe rivisto, non si capisce bene se provenivano da lì, se è partito da lì questo incendio. Allora, se partiva da lì, questo ripeto, lo vedrà la magistratura e le autorità che faranno le indagini. Quello che posso dire è che il piano meno due non è a livello del terreno, il piano meno due è sollevato, perché il piano meno tre è a livello del terreno da un lato e il piano zero è l'altra entrata dell'ospedale, quella principale, perché la struttura essendo costruita in collina, da un lato dove c'è il piano zero c'è l'entrata principale dell'ospedale, dall'altro, che è il piano meno tre, perché c'è l'altro accesso all'edificio, accesso ovviamente non da parte dell'utenza, ma da parte degli operatori, ma il piano meno due è il piano superiore a quello dove ci dovrebbero essere questi famosi rifiuti se erano collocati all'esterno. Quindi il piano meno due, da quello che sono le notizie che ho, non dovrebbe proprio essere, è stato interessato ovviamente dalla propagazione delle fiamme e del fumo, perché sviluppandosi l'incendio sia in altezza, sia ovviamente nei residui, nelle polveri, nelle ceneri, nel fumo, ovviamente è andato a interessare i piani superiori e non solo il meno due, ma se è partito dall'esterno è partito sicuramente da meno tre. Senta, è una cosa che secondo lei quindi non si poteva prevedere, è qualcosa che si poteva, è un problema di programmazione, oppure una cosa che è accaduta così per incuria? Non si sa, perché di voci ce ne sono tante. Qual è il suo pensiero? Come sempre quando ci sono gli incendi in una struttura, ovviamente la prima cosa che ci si chiede è se è doloso o se è avvenuto per autocombustione. Ripeto, questo fa parte delle indagini in corso e poi francamente questo non mi è dato sapere perché notizie certe non ne ho, quindi al di là poi dell'espedale, è molto importante per questo. Questo però non lo potrei dire con certezza. Certo, certo. Invece il futuro dell'ospedale San Giovanni Tivoli, allora Tivoli ha bisogno, è un posto importante, è il centro, insomma, l'ospedale Tiburtino, non si può non avere un ospedale, un pronto soccorso a Tivoli. Quanto tempo ci vorrà? Come si organizzano i processi assistenziali per il futuro? Il prossimo futuro da domani? Guardi, esiste sicuramente una fase emergenziale che deve essere superata in seguito all'evacuazione e all'inagibilità dell'ospedale. Ricordiamo che l'ospedale in questa fase è sotto sequestro da parte della magistratura che dovrà fare il suo percorso di indagine e ovviamente tutto il resto che le è proprio. In realtà per noi operatori sanitari e per i colleghi in generale che lavorano all'interno della struttura, il percorso di riorganizzazione è incominciato un minuto dopo che ovviamente è stato spento l'incendio e sono stati evacuati i malati. È ovvio che la vita va avanti, non ci si ferma e come tale la riorganizzazione prevederà uno spostamento dell'attività sugli altri quattro presidi aziendali a tutela di tutto il territorio della Roma 5 che è composta ricordo da un territorio vastissimo che va dal confine con l'Abruzzo fino alla provincia di Frosinone e che deve necessariamente prevedere una riorganizzazione su altri presidi che appartengono all'azienda Roma 5 dove non ci si arriva per ovvietà di limiti strutturali dell'azienda arriveranno in soccorso eventualmente gli hub di riferimento, gli altri presidi di riferimento a Roma e su questo io ovviamente non posso che fare un appello a tutta l'organizzazione della sanità pubblica per dare sostegno all'azienda Roma 5 ma questo sono certo che avverrà. Già da stamattina il Presidente Rocca e il Ministro Schillaci sono andati di persona al presidio di Tivoli segno di grande sensibilità e solidarietà delle istituzioni nei confronti dell'azienda Roma 5 e del presidio di Tivoli. Grazie segretario Di Blasi e grazie a tutti gli operatori che si sono dati veramente da fare per aiutare, per salvare tante vite anche ai vigili del fuoco. Grazie molte. Grazie a lei e ai suoi telespettatori. Una buona serata. Grazie a tutti.